Queste mostre segnano un passo in avanti da parte della Fondazione Altopiano della Giara. Un passo in avanti che mette in rapporto la gestione dei quattro ingressi dell'Altopiano della Giara con i beni culturali che sono presenti nei quattro comuni di Genoni, Gesturi, Sezzo e Tuili che hanno deciso di fondarla. E' un passo importante perché fa parte di un'economia turistica che sta sempre di più caratterizzando il nostro territorio, caratterizzando la Marmilla. Io ho 20 anni, forse 30, che lavoro qui e lavoro in questo territorio. Parlavo con una guida ambientale escursionistica l'altro giorno al Teatro di San Luri e mi diceva adesso è arrivato il momento di questo territorio perché il tipo di turismo sta cambiando. Il tipo di turismo ci sta portando delle persone che stanno veramente venendo quasi spontaneamente a visitare i nostri territori. Le grandi mete turistiche hanno un po' esaurito il loro appeal e cominciano ad avere un nuovo appeal, le mete particolari. Andare a mangiare a casa di una signora, andare a scoprire un territorio, fare turismo esperienziale, fare un turismo dove tu vai a capire le piccole realtà, le racconti, fai delle esperienze, stai con le persone. Questo è il nuovo modo di vivere turismo. È il nostro momento dopo tanti anni, dopo tante battaglie che abbiamo fatto e qui ci sono tanti colleghi, operatori turistici con cui abbiamo veramente fatto tanto. Quindi per noi è un momento importante. Teniamo conto che tra l'altro la maturità turistica del territorio, l'ho vista perché ieri, oggi, domani e dopodomani partono quattro eventi culturali. Quattro eventi che sono quattro eventi a rette, quindi non il singolo comune che si porta avanti il suo campanile, ma lo porta avanti in forma di rete, in forma di promozione congiunta del territorio. Ma lo fa quando? Prima di Pasqua. Lo fa nel momento giusto, quando si parte con il turismo. E questo lo fa, forse automaticamente, ma forse perché dagli e ridarli, da un'economia solamente agropastorale o del terziario, si passa a un'economia turistico-culturale. E i tanti stipendi di persone che vivono nel territorio e che da anni lavorano in questo settore, lo dimostrano pienamente. Vorrei dare la parola al sindaco di Genoni, nonché presidente della Fondazione Alto Piano della Giara. Prego. Buonasera a tutti e benvenuti. Io ringrazio Paolo e ringrazio Emiliano Landi, che è qui presente, per questo evento importante. In qualità di presidente della Fondazione, fondamentalmente io vorrei davvero evidenziare quello che è successo nell'arco di pochi anni, perché siamo riusciti, con la volontà proprio delle amministrazioni comunali, a creare un soggetto giuridico molto importante, perché ha messo insieme quattro comuni, quattro comuni della Giara, che stanno lavorando assieme e sono riusciti a portare dentro la fondazione quello che era un background già esistente di quello che esisteva nei comuni di Gesturi, Tuili e Sezu, e in più, per chiudere il cerchio, è riuscito ad entrare anche Genoni. Quindi, si tratta di un evento, tutto sommato, io lo ritengo importante. E di questo devo dire grazie anche alle amministrazioni di questi comuni, anche quelli che sono venuti prima. Insomma, abbiamo collaborato proprio per realizzare questa struttura, questa forma giuridica, che, giustamente, come diceva Paolo, non si ferma al mantenimento di quello che era l'esistente, che aveva vissuto in precedenza, fino al 2021, ma all'auspicio proprio di evolvere e di essere protagonista per lo sviluppo di questo territorio. E quindi, siamo arrivati, dopo varie anche peripezie burocratiche, perché non ve le racconto, perché è meglio così, però siamo qua e questo è un punto di partenza. Questo evento, che mette insieme tutti e quattro i comuni, segna proprio anche un avvio di un percorso, effettivamente turistico, di gestione degli accessi alla giara, di gestione dei sistemi museali di un territorio, e quindi, sono personalmente soddisfatto. Un grazie anche, va ai dipendenti della fondazione, che sono stati anche recentemente integrati con nuove assunzioni, persone qualificate, e quindi complimenti e benvenga, speriamo che sia la volta buona per rendere questo ambito territoriale della Sardegna più prospero di quello che magari è stato fino adesso. Non aggiungo altro, lascio la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Non andare via, no, 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 no. Una domanda è dovuta non da presidente della fondazione, ma anche da sindaco, da sindaco del comune di Genoni, perché voi avete vinto anche un bando molto importante, che è il Bando Borghi, siete stati uno dei pochi comuni, questo Bando Borghi ha portato delle risorse, e ci sono dei progetti molto importanti dal punto di vista dello sviluppo turistico, in due parole. Il Bando Borghi è un progetto che fondamentalmente è di stampo di tipo culturale, quindi non prevede grossi interventi materiali, bensì una variegata serie di eventi culturali. Non semplice da portare avanti, lo dico chiaramente, però adesso stiamo arrivando al punto di dover fare le cose. Non solo, ma ricordo a questo punto per quanto riguarda il PNRR, che i comuni di Gesturi e di Genoni hanno anche beneficiato del finanziamento proprio per la rimozione delle barriere architettoniche nei musei. Quindi, e non ultimo, c'è anche il Bando della Regione per il riconoscimento dei musei. Quindi la speranza è proprio quella che nel giro di un po' di tempo si riesca, con questi finanziamenti, a portare ad alzare il livello del sistema cultura di questo territorio. Quindi speriamo bene che si possa arrivare fra un paio d'anni a avere un altro evento simile a questo, ma comunque ben strutturati. Bello corposo. Bello corposo. Grazie a voi. Abbiamo dato la precedenza al Presidente della Fondazione, adesso diamo la parola ai padroni di casa, Maurizio Concas, Vice Presidente della Fondazione, Vice Sindaco del Comune di Tuini. Buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi. Un primo ringraziamento è quello del fatto di vedere tanta gente con cui abbiamo condiviso questo percorso per arrivare oggi a mettere questo tassello così importante, in un contesto culturale così importante, così come appunto diceva anche Gianluca, come diceva anche Paolo. e quindi il nostro grande onore è quello di essere riusciti come amministrazione comunale a percorrere una strategia insieme ai nostri compagni di viaggio, che sono questi comuni, che sono appunto il Comune di Gesturi, con Emilio, con Gianluca, Genoni, Paolo, Sandro di Sezzu, e Andrea che oggi purtroppo per motivi di salute non è potuto essere presente qui con noi e che mi ha raccomandato di porgere i suoi più calorosissimi saluti e dispiaciutissimo per non essere qui a condividere con tutti voi quello che è questo grande evento. e quindi dicevamo che oggi parte questa grande iniziativa, questa mostra di Pinocchio, grazie anche a Emiliano e a Katia che sono qui presenti e anche tutti gli altri artisti che con noi oggi inizieranno un percorso che spero che sia lungo e produttivo. Per cui, niente, volevo semplicemente dire che l'amministrazione oggi ha fatto un grande investimento con Villa Square e continuerà a farlo nei prossimi mesi per cercare di migliorare ancora di più quello che è la capacità di accoglienza del nostro Paese assieme anche alla collaborazione di tutti gli altri Paesi che assieme a noi concorrono a raggiungimento di questo risultato. Faremo dei bellissimi interventi ancora di miglioramento del nostro centro storico che assieme a tutti gli altri sono veramente delle perle del territorio e lavoreremo perché anche la Chiesa possa essere riaperta che anche la Chiesa porta un altro degli elementi culturali di questo territorio il rettablo del maestro di Castelsardo così come tante altre perle architettoniche del centro storico quindi veramente grandi elementi di cultura altro elemento da non dimenticare è l'altopiano della Giara che assieme a tutti gli altri comuni ci ha unito in questo percorso. Grazie Una domanda Una domanda è un'interrogazione Oltre questo due cose stanno avvenendo una c'è già ed è l'ospitalità che sta crescendo nel vostro comune l'altro è anche un player privato importante che è la Sardegna in miniatura che inaugura domani quindi questo territorio sta portando con promozioni variegate tantissime persone e soprattutto non le porta ma fa in modo che restino più di una giornata Sì, è vero Paolo questo è un altro elemento importante infatti uno degli elementi su cui l'amministrazione ha scommesso ci tiene in modo particolare è l'accoglienza l'accoglienza infatti noi abbiamo un ostello che è da poco stato dato un affidamento che è una bellissima struttura gestita da Bisus de Giara che veramente rappresenta un elemento di accoglienza di eccellenza assieme a lui e quindi a questa struttura abbiamo dei bellissimi bed and breakfast che rappresentano anche questi degli elementi di eccellenza nel territorio abbiamo, non farò i nomi ovviamente non mi sembra il caso però veramente possiamo dire che come amministrazione siamo sempre stati a fianco a tutti gli operatori locali per cercare di accompagnare loro nel raggiungimento di questo importante risultato cioè l'accoglienza che deve arrivare che deve rimanere e che deve trovare anche soddisfazione nel ritornare di nuovo a Tuili e crediamo che questa sia la scommessa più importante che stiamo facendo grazie chiamerei Sandro Palla sindaco del comune di Sezzu che tra l'altro a Sezzu ha anche sede la fondazione non a caso in uno dei comuni più piccoli della Sardegna ma anche dei più belli e dei più ben curati Sì, Sandro Grazie, buonasera a tutti non vi presento perché l'ha già fatto Paolo niente, sono il sindaco del comune di Sezzu vi do giusto qualche indicazione ma l'ha già anticipato Paolo Sezzu è un piccolissimo comune anzi, è il più piccolo comune della provincia della sud Sardegna ci abbiamo appena 130 abitanti inquadrata anche Sezzu nella subregione della Marmilla dove in questo periodo stanno nascendo oltre questo che stiamo presentando oggi anche altre iniziative come quella che è stata presentata ieri dal consorzio turistico in collaborazione anche con l'Unione dei Comuni che è il progetto dei Discover Marmilla che non è nient'altro che una piattaforma diciamo dei social dove comunque mette in condizione i turisti di visitare quella che è il nostro territorio ok quindi niente dicevo il comune di Sezzu ha tempo fa dal recupero di due edifici realizzato quello che attualmente è il museo multimediale chiamato museo multimediale filo di memoria all'interno troverete tre sale di cui una dove è stata riprodotta quella che è la struttura della Domus la Domus de Gianas che trovate anche realmente percorrendo la strada che dal centro abitato vi conduce sull'alto piano della Gianna in questa sala viene riprodotta quella che è una proiezione di una favola delle Gianas in una seconda sala trovate quelli che sono dei monitor touch dove parla di quella che è la Dea Madre mentre nella terza sala troverete delle rappresentazioni grafiche che sono accompagnate con delle fiabbe che potete ascoltare tramite delle cuffie non vi do altre indicazioni su quelle che è il museo perché vi consiglio di visitarlo perché nella sua diversità proprio perché è multimediale non è un classico museo come possiamo trovare in tante altre parti è bello per questo sistema multimediale è molto divertente sia per i più piccoli ma non solo niente oltre questo nello stesso periodo più o meno è stato recuperato quello che è un altro edificio che abbiamo dato in consegna appunto come diceva Paolo alla fondazione Alto Piano della Giana questo edificio è stato denominato Sabra Zeida infatti troverete praticamente proprio di fronte all'edificio del museo proprio quest'altra struttura che è molto bella all'interno del centro abitato troverete un bel centro storico curato e niente ci sono giusto due chiese una la chiesa di San Leonardo che è il patrono e l'altra la chiesetta diciamo campestre che è la chiesa di San Cristoforo tempo fa è stato anche scoperto iniziato degli scavi anche per un piccolo nuraghe anche questo che si trova praticamente lungo la strada che da Seizu va porta a Genuri percorrendo sempre la strada che è dall'altopiano che dal centro abitato porta all'altopiano ci sono in questo periodo anche due bellissime cascate una è una caschiata naturale e l'altra è artificiale diciamo queste sono alcune delle indicazioni su quello che è la nostra piccola realtà noi come amministrazione comunale crediamo tantissimo in quello che è il progetto e il percorso che stiamo percorrendo assieme agli altri tre comuni e alla fondazione anche io mi aggiungo a quello che è già stato fatto precedentemente i ringraziamenti e i complimenti al personale della fondazione altopiano della Gera che da quando abbiamo iniziato sta facendo veramente un bellissimo lavoro che magari agli occhi di tutti ancora non si vede ma noi lo vediamo ok niente non voglio allungarmi più di tanto grazie aspetta aspetta la domandina l'interrogazione anche a Sandro allora Sandro è anche membro del consiglio d'amministrazione di Sagorona Rubia che io dove io diciamo sono di casa perché ho fatto tanti anni della mia carriera lì e che ringrazierò sempre ed è un progetto come Bando Borghian questo è un progetto da 900.000 euro cioè qui sono 18 comuni che stanno veramente partendo per una promozione a livello nazionale e a livello internazionale Sandro questo è veramente una cosa importante dici due parole in più su questo a parte altre cose come i percorsi che state facendo sulla Gera eccetera ma questo è veramente una cosa importante del tuo secondo ruolo adesso sì esatto come dicevo prima è stato giusto presentato ieri però il bello diciamo che di questo progetto deve ancora avvenire questo sicuramente è il diciamo il risultato avverrà non appena tutti quelli che sono gli operatori economici del territorio cercheranno di essere individuati e inseriti in questa piattaforma che serve comunque per dare la possibilità al turista come dicevo prima per mettersi almeno essere guidato sui social su quello che sono le ricerche che uno vuole trovare in questo territorio come potrebbe essere il dove andare a mangiare dove andare a dormire tante altre cose e questo diciamo che è giusto una partenza di questo progetto che il consorzio ma tutto il territorio crede tantissimo quindi l'economia culturale si unisce all'economia turistica esattamente perfetto grazie adesso adesso chiamerei il sindaco di gesturi ne ho letto sindaco più giovane della sardegna e anche però molto molto fermo nelle sue idee nei suoi propositi grazie Paolo buonasera a tutti è un piacere essere qui rappresentare l'amministrazione comunale di gesturi e che dirvi qual è il contributo di gesturi all'interno della fondazione il nostro territorio contribuisce per circa il 50% a quello che insomma l'estensione complessiva dell'altopiano della giara possiamo annoverare nel nostro territorio numerosissimi monumenti archeologici il più importante sicuramente è il protonuraghe di Bruncumadugui con il villaggio limitrofo dell'età del bronzo finale mi sentirei già di lanciare uno spoiler noi abbiamo avuto con Paolo questa settimana un incontro con la soprintendenza e stiamo già programmando per la primavera delle visite guidate al sito nuragico così che anche la fondazione anche l'ingresso di gesturi inizi a offrire un servizio importante e concreto che porta questo patrimonio straordinario alla conoscenza di tutti altra cosa molto importante sicuramente sono i diversi finanziamenti di cui gesturi è stato attrattore in questo periodo in primis un finanziamento molto importante che arriva anche dalla precedente amministrazione che riguarda il museo della giara di gesturi che era già una realtà affermata quindi nasce prima dei musei di sezzo e di e di tuili e va a rinnovarsi e implementarsi con un finanziamento che sarà servirà sia all'abbattimento delle barriere architettoniche ma anche a una rivisitazione in chiave multimediale ed esperienziale di quella che è l'offerta stessa del museo in particolare con degli allestimenti nuovi innovativi che raccontano al meglio anche ai più giovani quello che è il nostro territorio lo raccontano anche attraverso la didattica e poi anche con la realizzazione di un sentiero multisensoriale che consentirà anche alle persone diversamente abili di poter fruire del territorio dell'altopiano dell'Aggiara altri finanziamenti sono quelli legati al PIT che porteranno nuove infrastrutture e la creazione di servizi sull'ingresso di gesturi e in ultimo sono altri 100 mila euro che ci arrivano dalla regione Sardegna per la valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale dell'altipiano dell'Aggiara insomma noi contiamo nel 2024 di investire risorse per circa un milione di euro sul territorio dell'Aggiara di gesturi e pensiamo che questo possa portare sicuramente un valore aggiunto alla fondazione e all'offerta turistica che con gli altri comuni ci portiamo insomma portiamo al cospetto dei visitatori un grazie lo voglio fare a tutto il CDA e al consiglio di indirizzo ai miei tre colleghi sindaci che si sono rivelati anche tre amici con i quali insieme a Paolo in questi mesi abbiamo affrontato anche dei momenti di particolare difficoltà ma siamo sempre riusciti a superare insomma tutte le insidie con coraggio e senza mai insomma perdere di vista l'obiettivo principale cioè far crescere questo territorio che è un territorio che merita che abbiamo trovato bello ma che abbiamo il compito il dovere di restituirlo ancora più bello ancora più forte alle generazioni che verranno da ieri l'abbiamo fatto da domani lo faremo ancora di più gettiamo il cuore oltre l'ostacolo vi abbiamo avvisati che siamo partiti lo facciamo anche con la mostra di Pinocchio che dimostra la forza la capacità di questa fondazione di trovare anche partner oltre mare sperando insomma di portare anche il nostro patrimonio oltre il mare di farlo conoscere quanto più possibile lo facciamo quotidianamente con i dipendenti della fondazione ai quali anch'io rivolgo un sentito ringraziamento per l'impegno che nelle varie mansioni e per la professionalità che hanno dimostrato e che dimostrano facendo a tutti loro un augurio di un buon lavoro chiedendogli anche di sopportarci e niente auguro un buon proseguimento a tutti e vi ringrazio tanto aspetta ho già detto tutto ve l'ho detto che era bravo bravo cosa mi devi chiedere no ti devo dire una cosa allora turismo turismo giovanile turismo attivo sportivo ma turismo religioso voi avete Fran Nicola qui abbiamo il retablo del metro del Castel Sardo che forse è il miglior retablo che abbiamo in Sardegna quindi turismo religioso i nuovi turismi turismi giovani sono una grande risorsa quindi assolutamente noi Gesturi si è affermata in questi anni anche come destinazione di pellegrini è inserita a pieno nel circuito dei cammini religiosi e lo è anche la Giara insomma lo sono i suoi sentieri che ancora di più e ancora meglio intendiamo valorizzare mettiamo tutto a sistema questo è sicuramente un valore aggiunto che Gesturi porta al territorio che porta alla fondazione e che insomma la presenza di Fran Nicola della Casa Natale e di tutta la monumentalità delle sette chiese che che insistono sul nostro territorio sicuramente messi a sistema portano un valore aggiunto a questa offerta turistica che vi racconteremo grazie bene entriamo nel vivo adesso vi presento il colpevole di tutto questo Emiliano Landi direttamente dalla Toscana il curatore della mostra mi frega l'amico Paolo perché dice sono il colpevole di questa situazione innanzitutto grazie a tutti grazie dell'ospitalità e in questi due giorni sono arrivato ieri ho conosciuto tante persone meravigliose dal personale come faceva riferimento non mi ricordo che il sindaco forse prima e niente un grazie specialmente a Paolo all'amico Gianluca Petrini che non sto vedendo che è stato il contatto eccolo è il contatto che abbiamo avuto per fare questa cosa qui in Sardegna dimmi Paolo volevi qualcosa di particolare come ti è nata questa cosa di fare i Pinocchio senti in realtà sembra fantascienza però è nata durante il periodo del covid che come tanti sanno noi eravamo chiusi completamente fermi in un appartamento e non avevamo modo di uscire quindi mi è ripreso la voglia di rileggere Pinocchio e da qui mi è venuta un'idea sarebbe bello proporre tutta la storia di Pinocchio con delle immagini con delle con dei quadri e così ho fatto l'inaugurazione è stata a Peretola il mio paese natale sono fiorentino so se si sente dalla gente leggermente leggermente e niente e dopo tramite una persona che purtroppo ora e sono anche un po' emozionato è venuto a mancare da pochissimo tempo che è un grandissimo era un grandissimo giornalista della Toscana conosciuto Fabrizio Borghini mi ha presentato il presidente della fondazione di Collodi Pierfrancesco Bernacchi da qui abbiamo avuto una bellissima amicizia una grande collaborazione ed è nato diciamo queste queste mostre perché in realtà vero Paolo sono due ora se ne presenta una poi domani chissà e diciamo la data ufficiale della nascita del libro di Pinocchio tutti la danno del 1883 cosa non vera secondo me perché il vero libro nasce dal giornale dei bambini del 1881 dove ci sono otto capitoli di questa collezione 16 capitoli del 1882 e due capitoli del 1883 allorché hanno l'idea di unificare il tutto e nasce quello che a mio modesto parere lo danno come il numero vero la raccolta del libro di Pinocchio peraltro bellissima però la realtà è che nasce il 7 luglio del 1881 e da qui qualcuno sicuramente saprà che sto dicendo la verità e non sto inventando niente niente il progetto è andato avanti il presidente Pierfrancesco mi ha consigliato non pregato però consigliato di collaborare con lui e abbiamo fatto un'altra mostra che si intitola miti fiabe leggende incontrano Pinocchio anche questa voluta fortemente dal presidente e invece ora siamo a parlare della nostra mostra che con Paolo abbiamo parlato tanto del telefono e finalmente siamo qui a rappresentare questa situazione niente sono due mostre in una in una ci sono 21 sculture dove il burattino Pinocchio in legno fa suona gli strumenti rappresenta solo Pinocchio che suona i rispettivi strumenti mentre ci sono 41 tele dove tutti i personaggi della fiaba suonano altrettanti strumenti quindi diciamo è un'unione tra arte e musica che è la volontà mia in quanto curatore e di Davide Battistini che è il segretario della fondazione di Collodi e da queste due cose abbiamo fatto vogliamo cercare di prendere sempre più spunto per fare sempre più mostre sperando che sia cosa gradita alle persone c'è una ragione per cui questa mostra è qua nel senso che è nata diciamo dall'incontro mio e di Gianluca che poi mi ha presentato te e abbiamo detto vabbè sta partendo dalla fondazione Collodi una mostra sulle note di Pinocchio allora io gli ho detto ma perché non ci date l'anteprima nazionale visto che noi abbiamo il museo degli strumenti musicali di Villa Square e lo stiamo facendo ci abbiamo ragionato ci abbiamo ragionato e detto va bene facciamo questa anteprima nazionale con l'altro Gianluca presidente siamo andati a Collodi ci siamo incontrati tra presidenti insomma un grande un bel incontro anche veramente un bel incontro profondo con un'ospitalità eccezionale che spero ne vogliamo anche ricambiare è stata ampiamente ripagata scusa e da lì è nata è nata questa idea partiamo dalla Sardegna abbiamo l'anteprima nazionale di questa mostra questa mostra andrà poi a Prato stiamo lavorando con l'associazione Italo-Tedesca di Prato che sta facendo un sito internet con dei QR code quindi la mostra sarà anche 2.0 perché ogni opera avrà un QR code grazie a Peter che poi vi racconterà Emiliano chi è e poi la mostra andrà in Germania e da lì farà il suo percorso internazionale quindi noi stiamo partendo con una mostra che inizia qui per un percorso nazionale che poi diventa internazionale chi è Peter? allora Peter è altro non è che la persona che sta facendo tantissimo nell'amicizia nell'unione tra la Germania e l'Italia a sede a Prato e questo Peter è un giochino diciamo praticamente mi è stato presentato da un'altra persona che te conosci si chiama Willy anche lui tedesco e ha scritto su un nostro catalogo di una mostra che abbiamo fatto tanto tempo fa dove c'è anche mia moglie Katia Nocentini che dopo interverrà niente è stato un passaggio diciamo di consegna da Willy ha presentato Peter Peter ha fatto questo catalogo che sarà penso gradito a tutti online anche perché in realtà ci ha stressato tanto nel senso da buon tedesco ha voluto puntualizzare tutti i passaggi dell'evento e niente questa è la diciamo la parte di come siamo arrivati a organizzare questa mostra qui nel vostro splendido territorio tra l'altro e giuro che non è una cosa di ruffianeria il presidente e mi è testimone il presidente è Paolo Sirena che voleva in tutti i modi venire per l'inaugurazione ha cercato tutti i modi per liberarsi purtroppo essendo presidente ha tanti impegni e non ce l'ha fatta ha garantito però vero Paolo dimmi se dico una bugia che sicuramente sarà qui nell'arco di questa mostra che si terrà fino al dillo te fino al 26 di maggio poi andrà a Prato dove andrà a Prato e poi da lì andrà in Germania poi vediamo come va nel caso prorogheremo e porteremo anche l'altra mostra e continueremo ad andare avanti con certamente questo diciamo è il passaggio diciamo che dovremo andare a fare io sono molto contento ringrazio ancora tutti gli amici che in due giorni mi hanno sopportato e supportato vi posso dire che Emiliano sta facendo una promozione incredibile oggi ha mandato l'articolo e lo stanno chiamando tutti gli artisti che hanno partecipato in mostra che tra l'altro verranno così non molto probabilmente sicuramente ho già l'adesione di sette artisti che verranno perché io chiaramente ma non è merito mio io ho consigliato di venire non solo per la mostra chiaramente sono curioso anche di vedere le proprie opere esposte però da due giorni io non conoscevo affatto il territorio e devo dire che sono rimasto veramente sbalordito dalle bellezze naturalistiche e non solo che avete del territorio in questi due giorni ho parlato con presidenti sindaci vice sindaci e sicuramente ho visto una una grande organizzazione io che non ci sono dentro perché non conoscevo nessuno ho visto veramente un'unione per cercare di valorizzare un territorio che sicuramente non per togliere niente a voi dovrebbe andare da solo perché come si dice a Firenze perché è talmente bello e non è una cosa per prendere l'applauso per ruffianeria io ringrazio tutti penso di aver detto tutto non so se Paolo ha altre domande da farmi e niente poi faremo una passeggiata in mostra con te grazie questo anche perché mi ha promesso di vedere altre due cose che ancora non ho visto e non dico guardi grazie a tutti allora chiamerei Katia Nocentini vieni Katia la nostra va lei è una professionista nella vita ma in realtà è un artista dentro ma non della pittura ma della scrittura sì allora io sono un po' la scrittrice di famiglia sono nata così e poi sono stata eletta e mi sento anche onorata dal nostro gruppo artistico come la scrittrice del gruppo perché? perché io sono un pochino il fanciullo di Pascoli che non è mai cresciuto e il primo marzo ho compiuto 50 anni però non me li sento affatto e spero di invecchiare così fino ai prossimi 110 quindi è l'augurio che mi faccio per questi 50 anni la vita a volte ti toglie però a volte ti dà e senza ancora sapere che il destino avrebbe scritto per me questa favolosa storia avevo già programmato ma non avevo deciso la destinazione un viaggio proprio per i 50 anni poi in varie circostanze non mi hanno permesso di farlo e quindi è stato come un dado tirato a sorte la vita ha deciso per me che oggi fossi qui con voi e siete il più bel regalo che potessi aver avuto e quindi vedete che questa è una fiaba tratta proprio dalla realtà io sono anche un po' così sono molto spontanea ho scritto un libro di fiabe che reputo sia adatto sia ai bambini che agli adulti perché prima di tutto perché è scritto da una donna in un corpo di donna in un cervello di donna però con lo spirito e la voglia di vivere e di divertirsi di un bambino e dopo di che il libro è stato illustrato e per questo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato perché io non so assolutamente disegnare e quindi ho detto bene cari ragazzi questo è un testo a voi la libera interpretazione e devo dire che ho raccolto una variegata differenza di stili e l'ho affidata ad un'età di professionisti dai 0 ai 100 anni quindi ho voluto proprio fare l'egoista e riempire il mio vaso con tutto quello che si poteva raccogliere e presumo mi sia venuta fuori una buona opera però di questo ringrazio principalmente tutti gli altri io ci ho messo solamente la penna e adesso ne prenderei una copia e siccome fin da bambini non credo anche a voi ci hanno sempre insegnato che non si si presenta mai a casa degli altri a mani vuote ma si porta sempre qualcosa io sono una pessima cuoca però quando le persone vengono a casa mia proprio perché lo sanno hanno sempre il garbo di fare un dolce a casa loro e me lo portano quando li invito non sapendo fare dolci ma presumo di sapere quantomeno un pochino scrivere io porto in omaggio a titolo solamente simbolico ad una persona che però rappresenta in questo momento tutti la mia piccola opera e la consegno al presidente della fondazione bravo grazie e questo è il mio voto per tutti ma non finisce qui anche se cercherò di essere breve allora sono praticamente io una bilancia con due piatti e vi annuncio che non so leggere però so scrivere quindi mediate allora siccome come già vi ho detto io non so né scolpire e nemmeno dipingere in genere scrivo di getto sono anche molto autocritica nei miei confronti tant'è vero che dal covid ad adesso sono diventata anche una giocatrice di palla a canestro perché mi sono messa un cestino in casa e parto ancora dalla vecchia penna e il vecchio foglio bianco mi faccio le brutte copie me le rileggo me le riscrivo me le autocritico fino a che non sono contenta riempio il cestino e poi ora siamo arrivati a questo quindi speriamo vada bene perché mi sono messa alla prova e non è stato facile perché perché ora ve lo dico perché solitamente io scrivo di getto immagino una storia e la scrivo invece stavolta ho fatto un percorso per me nuovo e inverso in quanto sono partita da una visione già costruita dei nostri pittori e il testo che vi sto per leggere si intitola proprio come la nostra mostra sulle note di Pinocchio quando vedrete i quadri spero vi ricorderete anche qualche breve scenno di questo racconto perché io in questo senso sono stata guidata dagli occhi gli occhi guardavano i quadri e istintivamente la mano guidava la penna è stato un po' questo percorso che per me è comunque sperimentale innovativo e spero che comunque sia gradito ora ve lo leggo vediamo cosa viene fuori c'era una volta un regno governato da un giovane imperatore il suo castello era stato costruito in modo che potesse ammirare il soggere del sole alle finestre poste ad est che si affacciavano sui campi ed il tramonto da quella d'ovest dalle quali nostalgico ammirava il mare inizialmente bellezza e prosperità abbondavano il paesaggio era un caleidoscopio di colori ed il villaggio era rallegrato da un magnifico teatro purtroppo tra gli abitanti si era diffusa una brutta piaga la bugia il mago della verità giunto un giorno in visita al regno si offese di tutte le menzogne udite e decise di infliggere una punizione ai bugiardi formulò un incantesimo che solo il buon cuore di una fata avrebbe potuto sciogliere da allora gli abitanti persero l'uso della parola i colori divennero opachi ed il regno fu avvolto come in una ragnatela dalla notte e dal gelo nessuno parlava né sorrideva più un prorompente silenzio avvolse come in un oscuro manto il teatro che con il passare del tempo sprofondava sempre più nella decadenza pietrificato cristallizzato ricoperto di polvere perse nei decenni la propria identità il teatro iniziò dunque a piangere ininterrottamente si sentiva inutile solo ed abbandonato le sue lacrime tante furono provocarono un'inondazione e l'innalzamento del mare una capretta che in quel momento si trovava su uno scoglio volse lo sguardo verso la luna quasi fosse l'ultima cosa che avrebbe visto prima di morire affogata e con tutto il fiato che aveva suonò una tromba per lanciare l'allarme per scongiurare l'incommente catastrofe anche una balena iniziò a suonare un corno con tutta la potenza dei suoi spruzzi mentre un tonno ed un delfino l'accompagnavano con l'oboe impietositasi da tanta disperazione e paura una fata da capelli turchini decise di intervenire e dare una possibilità ai bugiardi in quella notte lunga e tempestosa fece una magia solleficando le corde di un'arpa ogni abitante sognò che avrebbe dovuto imparare a suonare uno strumento per restituire al teatro il suo antico splendore il mattino seguente segnò l'alba di un nuovo giorno il sole tornò a sorgere e gli abitanti si risvegliarono ancora muti ma animati da una rinnovata speranza nessuno ricordava più il villaggio come era prima la fatina aveva perdonato tutte le bugie le nuvole del cielo avevano assunto la forma delle note musicali nel centro della piazza principale erano improvvisamente comparsi sette cartelli che indicavano le direzioni do re mi fa sol la si nei campi un contadino stanco del duro lavoro decise di riposarsi all'ombra di una grande quercia in compagnia del suo fulele le afi industriose iniziarono ad impollinare il vento trasportava il suono di un sax suonato da un vario pinto pappagallo mentre un falco ai piedi di una montagna aveva scelto il ramo più alto di un albero per far riecheggiare il suo clarinetto tutti rigorosamente muti comunicavano tra loro con il linguaggio universale della musica un serpente burlone che aveva rischiato di farsi venire un infarto per aver deriso un burattino decise di far cambiare opinione a tutti coloro che fino a quel momento lo avevano sempre temuto un pomeriggio mentre stava stricciando tra l'erba vide un contrabbasso appoggiato su un'enorme pietra incuriosito lo osservò a lungo lo strano oggetto lo attraeva come una calamita ed egli avvertì l'esigenza di avvolgerlo con un caloroso abbraccio sfregando nelle corde quasi volesse accarezzarlo scoprì che emetteva un suono grave da timbro oscuro ed asciutto giorno dopo giorno sfregamento dopo sfregamento imparò segretamente a suonarlo correttamente nel villaggio due amici falegnami geppetto e mastro ciliegia decisero di intraprendere un mestiere d'arte mantenendo la tradizione iniziarono a costruire strumenti musicali a mano secondo le tecniche artigiane divenendo pure eccellenti gli utai il giovane Pinocchio abbandonato l'abbecedario si appassionò alla musica e chiese al suo bambino di costruirgli uno strumento appartenente alla famiglia degli ottoni il trombone dalla bottega provenivano suoni espressivi maestosi e squillanti un gruppo di topini che solitamente traenavano una carrozza in una notte di collettiva insonnia decise di girovagare per campagna e villaggio finché giunse davanti al teatro dove per molto tempo si erano esibiti burattini di mangiafuoco sebbene fosse buio e silenzioso a loro sembrò un mondo fantastico un universo da esplorare improvvisamente arrivarono anche alcune lucciole ed illuminavano un oggetto in legno a canna cilindrica sul quale erano stati posti dei fori vicino vi era un vaso di rose appassite ed alcune noci mentre il topo ghiottone immaginava già una bella scorpacciata il topo acrobata ne approfittava per inscenare un nuovo numero nessuno sapeva a cosa servisse quello strano oggetto uno di loro iniziò a soffiarvi dentro mentre gli altri saltellandovi sopra aprivano e chiudevano i fori il flaufe emanava un suono limpido anche se un po' freddo simile al canto degli uccelli nel teatro all'improvviso si diffuse un intenso profumo come a primavera inoltrata alcuni spartiti si srotolarono come tappeti davanti ai topini le rose appassite ripresero vita ed uscendo dal vaso si posero in cerchio iniziando a danzare su uno spartito di Antonio Vivaldi le quattro stagioni teatro commosso iniziò a piangere di gioia le lacrime gli scendevano come pioggia scrosciante riuscendo a rifulirsi dalla spessa coltre di polvere quella stessa notte nemmeno il giovane principe riusciva a dormire come Paganini soffriva di lesione ai polpastrelli si affacciò alla finestra per ascoltare le sfrangenti onde ed il suo sguardo fu rapito dal bagliore di un falò sulla spiaggia era stato acceso dal carbonaio che nelle notti di luna piena si dilettava a suonare la corna musa mentre un curioso Pinocchio lo spiava di nascosto lo scoppiettio dell'ardente legna accompagnava il suono di un tamburello basco suonato da un granchio e quello della chitarra di un pescatore verde quella musica rappresentò cura guarigione per la sua malinconia come risvegliato da un lungo torpore scese nelle segrete del castello dove in un baulo aveva nascosto il cremonese il Vesuvius e il Berthier un intenso profumo di abete rosso lo inebriò in preda ad una fervida esaltazione il principe iniziò a suonare i tre violini come per incanto tutte le stanze del castello si illuminarono le sue mani smisero di dolere e mentre suonava ad occhi chiusi immaginava di essere in compagnia di Beethoven Bach Amadeus Ravel il destino aveva scritto per lui una storia da imperatore mentre nel profondo dell'anima sognava di essere un compositore il grillo conosciuto da tutti come noto tenore ebbe un forte mal di gola mentre si aggirava disperato per i viottoli di campagna incontrò Alidoro che stava suonando la batteria e melampo la tuba un albero era diventato il punto di incontro tra galline civetta merlo bianco e picchi il grillo che ne faceva una e cento ne pensava immaginò un ensemble tanto disse e tanto fece finché riuscì a convincere i penuti a costituire un coro la voce si sparse ovunque e da quel giorno chi per curiosità chi per incredulità si regava ad assistere alle prove convinti che il grillo avesse avuto un'idea geniale giunsero anche l'omino di burro con la fisarmonica ed il gorilla con il timpano il coro svegliò le faine nel bosco che quatte quatte si avvicinarono con cattive intenzioni ma udita la melodiosa voce dei penuti rinunciarono a catturarle anzi si aggiunsero al gruppo equipaggiate di triangoli maracas alla loro vista calò il silenzio Medoro intanto aveva scritto il trattato di pace tra faine e galline e il cambarbone vestito da cucchiere ebbe l'onore di apporvi il timbro con la ceralacca fu in quel momento che la fervida immaginazione del grillo intravide in Medoro il ruolo di pianista in un'orchestra sinfonica mentre in campagna si stavano formando nuove amicizie fuori dalla scuola vi era un ragazzo svogliato e birichino al quale Firocchio però voleva un gran bene suonava l'armonica e si chiamava Lucignolo il suo sogno era quello di partire per il paese dei balotti ognuno aveva un sogno nel cassetto il gatto e la volpe conosciuti come imbroglioni da tutti si dedicarono anch'essi alla musica per vivere suonavano per le strade la conga e la viola avevano sentito parlare del celebre Wolfgang Amadeus Mozart e volendo conoscerlo a tutti i costi si misero a lavorare duramente guadagnando cinque monete d'oro con quel denaro partirono diretti a Salisburgo dove una nuova vita li attendeva i guai del povero Grillo però non finivano mai impegnato in prima linea a smuovere le coscienze soffriva frequentemente di emigranie era stressato un giorno decise di rilassarsi nel bosco si addormentò con il sorriso sognando di assistere al cardellino di Antonio Vivaldi svegliatosi vide gli altri personaggi intenti a suonare i loro strumenti e i tre dottori che preoccupati di non vederlo rientrare al villaggio erano andati a cercarlo i medici curavano lo stress con la musicoterapia appesero ai rami campane tubolari e quando il Grillo si svegliò notò con stufore un ciuchino che le stava suonando con le zambe posteriori il mal di testa era scomparso e si sentiva nuovamente carico di energie iniziò a saltellare apperdifiato dalla gioia tanto che gli tornò pure l'appetito corse dunque all'osteria dove trovò i carabinieri che stavano suonando e sulla soletta la lumachina stanca ed affamata dopo una lunga attesa finalmente l'oste suonò il gong per annunciare che la specialità al gusto pere era pronta Pinocchio ormai diventato bambino vuole fare un regalo al suo bambino al posto di una casacca vuole acquistare un elegante smoking al povero Geppetto che meritava di sedersi in prima fila alla riapertura del teatro la data stabilita il 10 agosto quella notte tanto attesa giunse in tutta la sua magnificenza un firmamento di stelle a forma di note si dispose sopra il teatro per omaggiarlo in tutto il suo splendore non mancava nessuno nemmeno il burbero mangiafuoco il grillo direttore del coro con una bacchetta a termometro misurava gli applausi la fatina direttrice d'orchestra rapiva lo sguardo del pubblico i capelli gli si allungavano o accorciavano durante l'esibizione a seconda che i toni fossero alti o bassi il suo abito era un trifudio di colori uno spettacolo nello spettacolo le api industriosi in elegante abito da sera erano le addette al cocktail di boinvenuto ottenuto dal miglior miele le note di note lo spettacolo nello spettacolo la magia nella magia fu così che ebbe inizio il concerto intitolato sulle note di Pinocchio spero abbiate apprezzato il racconto grazie Katia grazie Katia ti ha fatto fare un viaggio all'interno di quelle che sono le opere della mostra quindi diciamo che la letteratura viaggia con un linguaggio parallelo a quello dell'arte e con una poetica sua nuova e tua e di questo ti ringraziamo grazie Katia grazie a voi applausi abbiamo parlato delle mostre che venivano e che vengono dalla Toscana e adesso a chiudere questa conferenza chiamerò i due rappresentanti sardi insomma perché voglio dire Pinocchio è arrivato anche in Sardegna ci è arrivato prepotentemente due mostre una Genoni e una Sezio di Federico Coni maestro Dascia e di Gianluca Petrini fanno come posso dire bella figura in questo percorso nazionale addirittura internazionale perché di questo si sta parlando io chiamerei prima Federico Coni e poi chiuderei con te Gianluca perché da te è iniziato e con te voglio concludere intanto Federico vieni da noi prenditi il palco una cosa voglio dire tu sei maestro Dascia Novello Geppetto sarebbe interessante che ti facessi conoscere per me in questa in questa occasione anche alla fondazione Collodi perché perché te lo meriti e perché magari chissà vediamo grazie Paolo allora io sono Federico Coni maestro Dascia è il mio nome artistico faccio Pinocchi ma faccio preferentemente personaggi in legno lo faccio di mestiere perché questo è il mio campo professionale però con Pinocchi con Pinocchi ho avuto una sorta di di Pinocchi ho avuto una sorta di devozione tant'è che ho già una mostra presente insieme nel territorio della Marmilla qui vicino a Baradili dove c'è una permanente che si chiama Pinocchio Influence doveva essere un fotoromanzo e questo percorso si è temporaneamente stoppato ma non mi sono stoppato io anzi mi sono più nervosito del fatto di avere un progetto sotto casa un po' fermo mi ha spinto a proseguirlo in un'altra forma nella mostra di Baradili Pinocchio Influence sono i personaggi della storia di Pinocchio singolarmente e non sono legati gli uni agli altri ma il mio obiettivo era di fare una sorta di fotoromanzo facendo quindi delle fotografie con questi personaggi la cosa li è stoppata e ho fatto qualche altra cosa mi stavo già facendo come personaggio aggiuntivo l'oste dell'osteria del Gambero Rosso e poi no cambiamo un pochettino strategia rifacciamo Pinocchio da zero l'ho fatto per me non perché avevo intenzione di fare per forza un'altra mostra e ho iniziato a prepararmi le scene dove Pinocchio era nelle sue sventure l'ho chiamato sventurato Pinocchio per quello quindi Pinocchio è il protagonista di ogni singola scena di questa di questa mostra che è ospitata al Museo del Cavolino della Gera di Genoni e perché è finita il Museo del Cavolino della Gera di Genoni perché io da un po' di tempo collaboro con gli amici della cooperativa Giunone che gestiscono il Parc il Museo Periontologico il Museo del Cavolino della Gera e che gestiscono anche il CEAS il Centro di Educazione Ambientale con cui sto facendo i laboratori didattici per l'infanzia con la manipolazione creativa con il reciclo e il recupero di legnetti per dargli altre forme di vita avevo quindi la mostra di Pinocchio in corso di lavorazione la propongo a Michele che è il direttore del museo e Michele mi fa possiamo provare a fare un percorso parallelo qua dentro il Museo del Cavolino della Gera quando poi è arrivata quest'altra proposta del Pinocchio in Gera e io ero già in Gera in effetti ero già arrivato in casa ma cosa ne pensi Fede di proseguire il percorso fatto è perché no intanto mentre sta proseguendo il percorso la collezione che presenta il Museo del Cavolino della Gera sta anche aumentando di altri personaggi perché non è una cosa statica che finisce lì io sto aggiungendo mano a mano che mi vengono in mente altre scene sventurate io le aggiungo alla collezione e quindi adesso se voi fate una passeggiata anche a Genoni troverete il mio Pinocchio lì grazie mille una domanda ve la devo fare la tua è un'arte che però si ispira a grandi maestri sì a grandi maestri ce li vuoi dire De Pelle? allora io ho i miei musi ispiratori io li chiamo musi ispiratori perché sono maschi erano maschi sono morti entrambi uno è Eugenio Tavolara che è il padre dell'artigianato artistico contemporaneo in Sardegna colui che ha dato un nuovo slancio e nuova vita all'artigianato artistico di tipo tradizionale e anche contemporaneo è un pre-designer diciamo e lui negli anni 30 del secolo scorso aveva fatto già il suo Pinocchio con i vari personaggi della sua storia nella mia collezione di Baradili e chiaramente anche in quella di Genoni il personaggio a cui io mi sono ispirato cioè dove io mi sono firmato nella storia è Mangiafuoco che ho fatto a mia immagine e somiglianza quindi con barba la barba adesso ce l'ho bianca oppure la posso colorare ma quando la barba era nera Mangiafuoco con la barba nera i capelli erano lunghi neri e però l'ho preso proprio come personaggio quello di Tavolara l'ho rifatto praticamente alla maniera di Maestro Dasha cioè me semplicemente gli ho fatto crescere i capelli e anche lì c'è la commistione del legno con qualche altro materiale perché il mantello glielo ho fatto in orbace che è un materiale a base di lana sarda che si faceva e che tuttora si fa ancora qui in Sardegna e l'altro personaggio a cui sono particolarmente legato è Iacoviti tant'è che il pinocchio principale della storia di Baradili è proprio preso paro paro da quello di Iacoviti tant'è che anche i gendarmi della mostra quella di Baradili sono presi da quelli di Iacoviti nella versione invece di Genoni è la versione più zippata più compatta ma è sempre il punto di partenza quindi diciamo che i miei lavori giocano un po' tra Tavolara e Iacoviti e poi chiaramente con la mia impronta personale che c'è un po' di sangue delle mie dita quando mano a mano me le taglio per fare i lavori grazie a voi grazie chiudiamo con Gianluca Petrini vieni Gianluca con Gianluca io porto anche i saluti del comune di Quarto siamo gemellati anche con il comune di Quarto dove abbiamo fatto la mostra di Gianluca Petrini io con Gianluca ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa forse quasi tre per caso e mi avevi chiesto ma dottore ma non è che abbiamo contratti per caso lui lavora alla regione al palazzo della regione ci incontriamo mi ferma e io l'ho riconosciuto mi ha riconosciuto mi ha detto ma lo seguivo già dai tempi della Sagorona Rubia e subito ho approfittato ho approfittato ma non è che mi cureresti questa mostra e da lì è iniziata questa amicizia poi io sempre impegnato come sono non ce l'ho fatta però ho detto guarda Gianluca mi piace moltissimo quello che fai ti curerò sicuramente la mostra e diciamo che anche non è semplice trovare un professionista che decida di occuparsi di Pinocchio Pinocchio è un personaggio scomodo soprattutto nelle istituzioni non viene accolto di buon grado eh 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 sì da Quartu siamo visti a Quartu ha curato la mostra di Quartu che è stata patrocinata sempre dalla fondazione Collodi e dalla dal comune di Quartu Sant'Ereno appunto con l'aiuto grande sempre che mi ha dato l'associazione Terra Battuta che è stata una diciamo un partner importante perché mi ha fatto ha fatto sì che riuscisse a organizzare la mostra di Cagliari di Favola in Fiaba che è il progetto collettivo che a livello nazionale racchiude molti artisti il naso più lungo del mondo a questo proposito saluto Luigi Lai che è un collaboratore del progetto facciamo un applauso anche a Luigi allora faccio un paio di domande perché eh qui siamo a Sezzo abbiamo due progetti a Sezzo due mostre partiamo prima di parlare della tua partiamo di Favola in Fiaba il naso più lungo del mondo è geniale questo progetto questo progetto è geniale ma nasce dalla collaborazione artistica che io ho voluto fare con due bambini aquilani Francesco e Gineva Margiotta che sono considerati a livello nazionale dalla critica gli artisti contemporanei più giovani d'Italia ho visto i loro lavori tanti anni fa e ho detto ma che belli questi un dono della sintesi incredibile mai avrei pensato che i protagonisti di queste opere fossero due bambini tant'è vero che poi tramite il padre e tramite altre persone abbiamo cominciato a fare questi quadri a diciamo quattro mani dopodiché il bambino Francesco ha chiesto perché non fai un pinocchio seduto sulle coste sarde che poi col naso raggiunge tutta l'Italia inizialmente questo progetto è partito così per gioco tra di noi ho fatto il primo quadro il numero uno che ora fa parte della collezione insieme a tante altre opere della fondazione nazionale Collodi dopodiché questo bambino ci ha chiesto di fare un sito internet e noi insomma io e il padre e Domenico lo abbiamo accontentato e ho detto tanto cosa vuoi che sia lo facciamo contento invece abbiamo avuto adesioni da tutta Italia finché questo naso ci hanno invaso di opere d'arte e questo naso è arrivato a 80 a 90 metri di cui la fondazione Collodi detiene una ventina di metri forse tenete conto come funziona il meccanismo come funziona vedete questo quadro che c'è qua questo è il quadro di partenza dove c'è la manina da qui parte un naso che è le tele sono tutte formate un metro per un metro ognuno ha un unico vincolo mantenere questo naso dritto quindi ogni artista che partecipa alla cosa fa crescere di metro in metro il naso quindi quant'è che siamo arrivati a 90 metri 90 metri 90 metri allora noi dobbiamo arrivare con la fondazione con i laboratori didattici almeno a 100 100 metri 150 metri esattamente ci mettiamo all'obiettivo la mostra di Cagliari poi inaspettatamente ha portato alla presenza del presidente Pierfrancesco Bernacchi ed è stata dalla fondazione collodi è stato un grande successo dopodiché ripetuta la mostra collodi e sono lusingato di aver ricevuto un premio dalla fondazione un riconoscimento importante dopodiché sono stato contattato da Emiliano Landi perché stavo organizzando appunto la mostra di cui ha parlato prima Miti Mita e Fiabbe Leggende incontrano Pinocchio una mostra itinerante della durata di tre anni che girerà poi tutta l'Europa di cui mi sembra che l'apertura inaugurale è stata proprio a Los Angeles vero? credo a Los Angeles e da lì è partito tutto questo contesto poi io già da tempo lavoravo con Pinocchio diciamo la particolarità io non come il maestro che è molto simpatico oltretutto che ho il piacere di conoscere mi sento quasi a caso perché lui tratta gli stessi argomenti io anche io strappolo Pinocchio dal suo contesto naturale e lo trasferisco nella vita di tutti i giorni perché io penso che la mia visione del personaggio è molto inumano dunque il suo percorso verso una umanizzazione verso una diciamo apertura al prossimo Pinocchio è un personaggio egoista pensa di raggiungere tutto senza fatica senza sofferenza e questo è diciamo è quello che io cerco di mettere in luce nei miei quadri poi ovviamente lo sposto in vari contesti lo faccio transitare sulle faccio andare sulle orme della politica sulla società sulla nostra cultura occidentale insomma affronto vari discorsi sfruttando nelle opere adesso stiamo già parlando del Pinocchio di Petrini e non di favore in fiaba nelle sue opere lui ha tre tematiche fondamentali una è allora intanto mette Pinocchio dappertutto che poi Pinocchio quindi è diventato io nel suo nel testo critico ho scritto che c'è il Pinocchio di Petrini e il Petrini Pinocchio perché in un certo senso Pinocchio è il filo conduttore che permette a lui di esprimere quello che veramente pensa sulla società ma anche ma anche su se stesso perché da un lato lui fa il verso alla storia dell'arte in una delle sue tematiche dove Pinocchio recita una parte assieme ai grandi maestri dell'arte in un'altra avvicina Pinocchio a un altro immaginario io sono degli anni 70 che tu sei degli anni 70 siamo cresciuti a pane e cartoni animati e quindi lui associa l'immaginario dei libri che ci viene da Pinocchio da quello che è l'immaginario che ci arrivava dal dal Giappone dal Giappone da tutti i cartoni animati però poi c'è un'altra tematica e quindi qui dobbiamo stare molto attenti perché sono siamo pieni di politici in sala devi stare attento ma tu sei abituato a lavorare in regione sì 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 c'è una tematica che è la tematica della critica sociale e anche della critica politica esattamente la critica sociale la critica politica che non è una critica direttamente alla politica è una critica alla politica fatta a livello non per la comunità il mio personaggio ripeto Pinocchio che solitamente si mischia ai personaggi che io faccio che sono anche deformi che rappresentano anche gli emarginati della società la politica non lo so beh diciamo che c'è un'opera per esempio che parla del governo dei tecnici ah ecco sì sì la scarsa fiducia purtroppo lo dimostrano anche lo dimostra anche l'affluenza alle urne mi ricordo quando venne fuori il governo tecnico venne in mente di fare un quadro dove come dove torniamo siamo qui potremmo piazzare alla giara perché la testa di un cavallo con lo sguardo di di monti e Pinocchio che guida questo triciclo con la testa di cavallo e tutti quanti che corrono felici con le bandieri tecnici sono arrivati a salvare e purtroppo invece sappiamo tutti com'è andata dunque ogni tanto questo quadro ritorna in e poi c'è un quadro legato all'Europa c'è un quadro legato all'Europa la decadenza della della nostra cultura occidentale proprio perché insomma svendiamo un po' le nostre tradizioni appunto e dunque in questo contesto ci sta rafforzarle le nostre tradizioni sia come persone del posto sia come cultura a livello nazionale europea insomma a me sembra che ci sia un po' una decadenza della nostra cultura e che a breve potrebbe anche venire insomma non dico cancellata ma quasi diciamo che noi siamo gli artefici di questa di questo degrado di questo degrado si tu sei molto critico soprattutto sull'essere umano c'è un quadro particolare che dice che il robot insegna com'è che era il robot salveranno la terra dalla razza umana e questo è un quadro che feci diversi anni fa ora si sta parlando molto di intelligenza artificiale chissà da dove viene questa intelligenza da quale mente e niente e sembra che l'uomo sia votato all'autodistruzione e alla fine questa intelligenza artificiale non lo so potrebbe in un mondo immaginario forse surreale potrebbe prendere l'iniziativa talmente intelligente da poter mettere al sicuro tutto quanto perché l'unico problema purtroppo dal mio punto di vista che non è non è pessimistico ma è abbastanza realistico il problema è sempre l'uomo oppure l'essere che ama o ha la presunzione di definirsi umano tutti noi abbiamo la presunzione di definirsi umani ma fino a che possiamo definirsi umani fino a che non c'è un qualcosa che agisce in noi e ci tramuta nelle bestie delle bestie con poca fiducia come collodi fondamentalmente non ha fiducia nell'essere tant'è vero che la storia finisce che stavo dicendo che Pinocchio si sveglia e vede tutto intorno a sé trasfigurato tutto è bello tutto è perfetto poi si gira e vede se stesso nella sedia cosa significa non è stata una trasformazione è uscito da quel corpo per cui mi verrebbe da pensare che fondamentalmente collodi come in precedenza fece morire Pinocchio impiccato successivamente con una maniera un po' più sottile ha fatto finire la sua storia in maniera diversa questo è il mio punto di vista la mia piccola analisi ognuno è giusto che abbia la sua d'altra parte anche Freud ci ha messo bocca Carmelo Bene tutti Cardinal Biffi ne potrei citare a centinaia artisti importantissimi Giacometti futuristi sono cimentati con Pinocchio e ognuno ha la sua diciamo che è una storia esoterica che non vuol dire chissà che cosa vuol dire semplicemente che ognuno ci trova una verità ognuno trova una verità su questa storia un qualcosa che altri non vedono e basta speriamo che serva a preservarci dalla degrado e dalla decadenza grazie grazie Gianluca ringraziamo tutti la riflessione quanto Pinocchio ci può fare riflettere avete visto come gli artisti lo interpretano in maniera diversa è un'opera eccezionale una delle opere più lette al mondo ci raccontava Gianluca il presidente che il parco il parco di Pinocchio adesso verrà riprodotto a Singapore a Dubai insomma c'è veramente una grande attenzione spesso più all'estero che in Italia cioè è veramente una metafora come ci stava dicendo l'altro Gianluca Gianluca Petrini una metafora della vita che ci fa riflettere quindi io dico grazie Emiliano grazie a tutti è veramente un orgoglio per noi poter collaborare con la fondazione Collodi perché noi siamo una fondazione giovane la fondazione Collodi è una fondazione che ha una grande storia e quindi per noi è solo un onore grazie avviciniamoci adesso al taglio del nastro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti